Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovissimo episodio di Little Nightmares che in realtà non è proprio un primo barra nuovo episodio perché in realtà questo potrebbe essere l'inizio di una grande serie di un grandissimo progetto che voglio portare avanti ovvero di portare ogni tot video, ogni tot settimana, ogni tot mesi, ogni tot periodo insomma delle serie, dei let's play come potete vedere non c'è la facecam, non c'è alcun tipo di distrazione diciamo così dal gioco perché in queste serie ci concentreremo proprio sul gioco, sulla vera essenza di questi piccoli capolavori come in questo caso Little Nightmares che comincerei subito perché non so innanzitutto né quanto duri né di che cosa si tratti quindi sono stato colpito molto dalla grafica, dalle recensioni che sembrano essere molto positive quindi buttiamoci a capofitto all'interno di questo incredibile gioco che essendo quindi un let's play avrà pochi tagli salvo delle parti veramente morti quindi mi raccomando se volete supportare questa serie lasciate un bel mi piace fin da subito iscrivetevi al canale in caso non siete iscritti e commentate facendomi sapere la vostra con i vostri pareti, le vostre opinioni e cominciamo in questo, non so, in questo strano torbidume non si riesce bene a delineare che cosa sia al centro non si capisce molto è un gioco molto misterioso, molto strano non ci saranno dialoghi quindi è molto per chi ha già giocato a Limbo oppure come è che si chiama quell'altro Inside insomma sono tutti giochi un po' così attenzione questa figura è un po' beh, non è proprio leggevole ah, e ci svegliamo così questo è il nostro protagonista non so se sia maschio o femmina ma lo scopriremo strada facendo o forse anche tra poco se si leva questo cappuccio allora, già lo possiamo muovere, perfetto io stavo fermo ad aspettare qualcosa vediamo subito i tasti allora si salta ok, ho premuto B e mi ha acceso questa torcia si può spegnere ok, quindi si può accendere, si può spegnere quindi questa c'è un accendino si può muovere la visuale possiamo camminare così non capisco se è correre oppure forse si sta correndo e boh non possiamo fare nient'altro quindi ah, si è nascosta però io adesso vorrei uscire gentilmente vorrei vorrei uscire come si fa? ok, beh, allora i salti sono leggermente complicati ok, diciamo che cominciamo a muoverci in questo percorso direi che forse è tempo di accendere questa roba attenzione il gioco si fa già abbastanza misterioso è molto molto particolare prima di accendere qua mi sembrava anche la cosa più logica quindi io se spengo allora vediamo se posso interagire in qualche modo qui sembra che non possa interagire ma in realtà boh mi puzza di sì di poter interagire ma vediamo se magari tornando indietro forse si apre qualcosa non so è bello quando non sei proprio non sei niente di un gioco sei completamente sproveduto niente no, no, qui proprio credo che non ci dovremmo più tornare e allora niente credo che esisterà un tasto per interagire il problema è che guardate che infami non mi dicono niente ti lasciano anche questo come questa proprio non si può aprire quindi credo che sì l'unica cosa da fare era aprire quella questo sportello qui ma il problema è come allora con A no sarei molto felice di sapere come si può ah grazie dopo che vedi che mi sto è vero non ho pensato a RT non ci ho pensato ok ok forse è meglio che accendo ecco questo gioco mi sa che forse l'illuminazione è importante comunque attenzione perché qui la situazione si sta facendo veramente enigmatica oserei dire beh il fatto che possiamo comunque sia dare un po' capite di di divario fra noi e la posizione in cui vogliamo guardare è secondo me abbastanza importante almeno per risolvere forse certi enigmi perché solo il gioco è provvisto di enigmi insomma siamo molto attenti eh che qui qui la situazione potrebbe farsi ancora più interessante del solito da notare però la grafica la grafica molto molto bella gli episodi cercherò di farli abbastanza brevi ve lo dico non voglio essere troppo troppo prolisso voglio cercare insomma di farvi divertire ma allo stesso tempo di appassionarci insomma il più tempo possibile questo gioco attenzione qui c'è un'altra un'altra botolina a questo punto non mi faccio fregare non posso farci niente vabbè ok ok allora qui c'è qualcosa beh beh credo sia un collezionabile eh credo molto belli i riflessi dell'acqua cioè spettacolari comunque a quanto pare qui non si deve fare niente strano che situazione particolare ci sono delle delle poltrone appese lì su e poi dell'altro aspettate ho intravisto eh ah beh ok il fascio di luce dell'oblo proviamo a salire a salire qua credo sia l'unica cosa logica sembra che non ce la faccia non ce la fa da aggrapparsi ah no invece si brava ovviamente io adesso la sto chiamando cioè mi sembra sia femmina però boh non so non si riesce ad entravedere niente forse è un maschio vabbè non lo so eh oh eh beh ok ok allora andiamo per ordine non mi sembra proprio una persona molto felice perché a parte poi che c'è enorme vabbè è un gigante questo comunque io a rigor di logica guarda come è intricato anche qua il sistema per spostare questa sedia ci avviciniamo o siamo noi piccoli o il mondo è grande ma presumo forse più la prima vabbè sì devo dire ok occhio perché qui ottimo c'è del catrame qua o almeno sembra sembra essere catrame e c'è un frigorifero abbiamo il frigorifero abbiamo il frigorifero e dentro c'è beh niente però forse la possiamo usare come scala immagino vediamo che succede se passo qua attenzione eh qua si va alla ricerca di segreti cioè sto ignorando tutto io comunque ok beh questo sembra essere un personaggio un po' particolare è un personaggio particolare vabbè a quanto pare molto utile questa cosa devo dire almeno che non avrà delle ripercussioni in futuro lo spero spero bene anche perché se no sinceramente non so cosa possa essere servito allora direi che la cosa più logica qui è arrampicarsi andiamo andiamo molto molto bene ma che posto è mai questo comunque cioè a differenza di quegli altri giochi come limbo come inside che più o meno una sorta di ambientazione ce l'abbiamo eh non mi sembra molto amiche no 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 eh vabbè eh sapete pensavo che sopravvivesse alla caduta comunque rispetto diciamo rispetto a quegli altri giochi non riesco a capire dove siamo ambientati non si riesce a capire molto bene comunque saltiamo così quella roba secondo me non è proprio molto amichevole cioè non mi è sembrato a primo impatto poi magari al secondo impatto potrebbe essere più amichevole però insomma eccoli qua di nuovo questi tentacolini sopra molto schifosi che schifo eh da pure da sotto schifosi non vi avvicinate bene immagino che questa porta però ah beh si 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 apre così si apre così sali sali ottimo rimango aggrappato perché non so se mollo vai 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 ho paura che si possa richiudere oh no di nuovo i tentacoli a quanto pare si prospettano come i nemici più ardui del gioco vai via ok abbiamo dei fogli di giornale dei paper ebbe non mi piace molto come situazione eh ah possiamo rimuovere eh ma con quale prepotenza proprio comunque infatti veramente cioè le animazioni allora non so se questa cosa oh santo oddio corri 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 non so come ma corri ah no 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 oddio sembrano sembrano gli alieni di life non so per chi ha visto il film però insomma questa roba tentacolare allora quindi cadere qui era previsto dal gioco ah beh non è di certo una bella cosa questa siamo molto attenti eh vabbè allora non ho capito dove devo andare questa non mi piace come cosa cioè vedo lì la porta ma caspita non è non è una bella cosa è pieno di questi mostri schifosi allora c'è questo però no e allora non si può cominciare così il gioco eh non si può veramente cominciare così io devo cominciare in una maniera fatta bene cercando il più possibile di resistere ora qui abbiamo capito che c'è la luce che si accende fino a qua nulla di di troppo sbagliato io volevo sapere se questo robo eh no 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 cioè è così proprio non è tre delusione delusione totale sembra non avere niente a che fare questo cestino questo secchio cioè ci riprovo un'ultima volta per vedere se no 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 guardate proprio non fa niente qualcuno mi deve spiegare allora che cos'è che devo fare poi il bello è che continuano a spawnare eh ah basta vabbè cioè ragazzi no ma ma di che cosa stiamo parlando il salto è abbastanza pauroso proverei a correre ok si 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 mamma mia ragazzi eh guardate che lì per lì non mi sembrava possibile cioè questo gioco ti mette davanti a delle soluzioni anche le più cretine che tu giustamente non ci pensi diciamo no è un gioco ti pare che che il gioco deve farmi semplicemente buttare giù una porta eh invece invece comunque continuo a non capire l'ambientazione in cui noi ci troviamo eh devo dire parecchio strana si alterna questo legno queste strutture un po' in acciaio ancora non sappiamo chi è il protagonista quindi tutto un gioco molto chiaro eh però sappiamo una cosa che il gioco si chiama Little Nightmare quindi magari è capace anche che tutto questo sia un incubo e tra l'altro qui noto che si vede sempre sempre di meno come mai come mai questa questa particolarità d'oscuro d'oscuro mondo tenebroso allora qui giriamo ah e luce fu e luce fu e luce fu continuiamo a girare guarda ne avevo una certezza io matematica no no ok allora sappiamo che dobbiamo correre in qualche modo che tra l'altro forse il salto secondo me è anche possibile ve lo dico sono del partito si saltiamo allora cominciamo a girare cominciamo a girare dai 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 perfetto ok allora le cose sono due stavo anche pensando se ci fosse qualche oggetto e magari quelle travi di legno forse le potrei trascinare in qualche modo non lo so per ora proviamo a correre 3 2 1 oh zio vai 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 si che ce la fai si che ce la fai si che ce la fai mamma mia risicatissima risicatissima allora qui ci abbiamo un buco lì poi questa roba qua che si può aprire e dalla quale continua a uscire il nostro amichetto quindi per il momento abbiamo scoperto che ci sono queste creature malvagie perché perché mai tutto no beh quello non mi sembra proprio amichevole decisamente non mi sembra amichevole ma tra l'altro io dovevo imparare i tasti allora con questo mi accovaccio con questo oh perfetto era importante capire i tasti ragazzi dopo un po' bisogna bisogna impararli ve lo dico comunque entriamo qui dentro che sembra essere più una prigione infatti mazzo c'è zecco troppo sembra essere una prigione ma questa prigione la scopriremo soltanto nel prossimo episodio di Little Nightmares fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco se volete vedere altri episodi fatemelo sapere nei commenti lasciate un mi piace commentate qua sotto iscrivetevi al canale in caso non siete iscritti e noi ci vediamo domani con un nuovo video come sempre dritto per dritto con un nuovo video Grazie.